gentili telespettatori buona giornata parliamo ancora del pnrr i nodi vengono al pettine in questi giorni ne abbiamo sentite di tutti i colori c'è stato il tentativo di scarica barile e colpa è colpa di conte colpa di draghi è colpa della meloni è colpa dell'europa è colpa dei comuni è colpa del sistema è colpa di scelze macron che ce l'hanno con la meloni sono sentite di tutti i colori la realtà è una sola i comuni italiani non hanno le competenze le capacità e il tempo per spendere questi soldi del pnrr questo è l'unico colpevole la mancanza dei comuni però si è cominciato a sentire anche strane storie come ad esempio soldi del pnrr per finanziare le partite a briscola eh sì avete sentito bene proprio le partite a briscola tra le spese per cui ci indebiteremo con l'unione europea ci sono anche i giri di briscola nel modenese 220 mila euro spesi proprio per la briscola bene cosa cosa ne diranno in europa di questo settimana scorsa ne abbiamo sentite altre vi faccio un esempio quella dei 330 milioni di euro per piantare 6,6 milioni di alberi nelle grandi città italiane visto che di alberi non ce ne sono hanno pensato bene di piantare non gli alberi ma i semi fare il buchino e mettere il seme e dire fatto incredibile vero solo che l'europa ancora non l'ha ben scoperto ne vedremo nelle prossime settimane quando l'europa scoprirà che non stanno piantando gli alberi perché l'europa sta pagando 330 milioni per piantare degli alberi stanno mettendo dei semini nella terra vedremo quando lo scopriranno che cosa succederà e oggi sentiamo dei 220 mila euro per i giri di briscola naturalmente i governi di centrodestra dicono che tra le eredità lasciate da draghi c'è anche quella dei giri di briscola nel pnr e che hanno poi tentato di nascondere tutto questo sotto il tappeto intanto fabio dragoni proprio parla proprio di questo sulla sette da floris nel suo programma di martedì dice noi siamo andati a cercare le carte e c'è da rimanere strabiliati e di casi del genere ce ne sono molti altri che documenteremo non appena avremo maggiori dettagli quindi non solo i finti alberi sostituiti con i semi ma anche i soldi spesi per la briscola e da quello che dicono ce ne sono tanti altri di questi casi quindi abbiamo preso i soldi una parte a debito e una parte a fondo perduto che siano a fondo perduto una parte non giustifica regalare i soldi per la briscola se sono a debito questo è ancora più grave il finanziamento della briscola arriva dalla provincia di modena in emilia romagna la delibera e la numero 59 del 5 settembre del 2022 quindi non è neanche una cosa così tanto vecchia parliamo del 5 settembre del 2022 non del 2021 quindi parliamo di poco prima delle elezioni politiche pnrr l'oggetto missione 5 inclusione coesione componente 3 interventi speciali per la coesione territoriale investimento 1 strategia nazionale per le aree interne linea di interventi 1.1.1.1 punto potenziamento dei servizi delle infrastrutture sociali e di comunità il progetto è tra virgolette un giro di briscola attività itineranti di socializzazione rivolte agli anziani del territorio montano quindi i soldi dell'europa ce li giochiamo proprio a briscola in tre anni oltre 200.000 euro attraverso varie voci di spesa che vanno dalle attività di socializzazione al trasporto degli anziani per andare a giocare a briscola dal rimborso delle spese materiali per attività e quelle per i locali sempre tutto inerente alla briscola con i soldi del pnr ci compreranno anche le carte per la briscola ma quale useranno quelle napoletane o le carte piacentine beh detta così sembra proprio come diceva l'altro giorno un esponente della lega che appunto disse ma spendere i soldi tanto per spenderli così a caso tanto vale lasciar perdere e rinunciare ai fondi perché se dobbiamo prendere dei soldi a prestito perché per finanziare la briscola molto probabilmente sono soldi presi in prestito che dovremmo restituire con gli interessi possibile che uno stato serio possa permettere il finanziamento della briscola e al posto degli alberi semini qui noi siamo a un livello che forse non possiamo neanche definire livello siamo a un punto tale che non è classificabile un giro di briscola non può essere delle spese straordinarie del pnrr ma dovrebbero rientrare in spese locali o regionali o comprensoriali invece vanno a gravare sul pnrr ecco questo sarebbe inerente al contrasto della solitudine della popolazione anziana con tantissime parole belle sulle modalità che si intendono seguire per sollevare la vita della terza età in montagna bene ma senza i soldi del pnrr il comune non troverebbe il modo di finanziare la briscola degli anziani nelle comunità montane in un triennio io credo di sì grazie a tutti e arrivederci a presto